Al via la quinta edizione di Ecomob Expo City, un villaggio della cultura sostenibile in pieno centro a Pescara dal 6 all'8 maggio. Un evento diffuso vista mare con tanti temi riguardanti l'innovazione, la sostenibilità e la mobilità elettrica alternativa. Tante le personalità e gli addetti ai lavori presenti tra cui Gianluca Gellorenzo, vicepresidente di Ecolife e Carlo Macci, il sindaco di Pescara, a fare ovviamente gli onori di casa. Io prima veramente ho fatto una battuta, quello che poteva sembrare una battuta è che comunque questi eventi servono per sensibilizzare sicuramente i cambiamenti climatici che non sono favorevoli perché diciamo che a maggio in questa stagione a Pescara c'è sempre stato il buon tempo per cui sensibilizzare a un atteggiamento green è sicuramente uno dei nostri intenti. I fondamentali sono la mobilità sostenibile, quindi con un'ampia scelta sull'automotive, quindi quasi tutti i brand presenti per far vedere le loro auto elettriche, scooter elettrici che è una novità un po' di questi ultimi anni e anche tante bike, micromobilità e ovviamente un occhio alla green economy con l'efficientamento energetico e le bike. Sì, la forma in alcuni casi è anche sostanza, aver spostato a Piazza Salotto la manifestazione Eco Mob che fino all'anno scorso si è tenuta al porto turistico vuol dire aver voluto mettere al centro dell'attenzione della città le tematiche ambientali che concernono la mobilità. Pescara è una città che ha fatto una scelta chiara sulla mobilità ecosostenibile, sta portando avanti spazi dedicati ai mezzi pubblici per favorire la mobilità pubblica, sta realizzando molte piste ciclabili, abbiamo già circa 40 km di piste ciclabili a Pescara ma nei prossimi due anni ne realizzeremo altri 20, una città che oramai è all'avanguardia da questo punto di vista.